che faccio c'è? sta sorridendo dai l'hai presa in giro poverina scusa eccomi guarda qua che sorride ciao, ciao ivy oh cazzo, sono diventato cumano l'ho lasciato qui ieri sera e incredibilmente sta andando sono 14 ore e 17 minuti e però sta attenendo incredibilmente visto che l'unico supporto tra virgolette attacco è qua sotto guardate che piccolo il punto tutta la parte sotto non è venuta bene ma non è un grosso problema tanto andrà grattato e verniciato però ci sta buongiorno amici di Daily ho fatto qualche filamento ma niente di che in realtà cioè è assurdo ragazzi alla fine non è riuscito a trattenersi magari se togli il coso di vetro da sotto i tuoi piedi non so se si è fatto per avere così tanto peso sopra credo ci sia un'opzione per girare la visuale no? ivy? cosa stai facendo? oddio cos'è successo? ok non so che modalità fosse entrata ma sembrava un quadro fatto con gli acquarelli ivy? fatti un po' che buffa che è questa roba kuma non so perché è da qualche giorno che è diventato tipo o l'ultimo scalino o il tappeto in fondo alle scale cioè questo posto qua ora è il suo preferito in tutta la stanza no? e lei invece ha giorni che gioca da sola con la pallina si lancia la pallina gioca da sola è contenta così beata lei brava ivy che cosa stai facendo? vuoi una mano? sono sicura che hai bisogno di qualcuno che ti regga il metro dammi qui tieni 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 brava tieni sto provando a fissarla al soffitto ho fatto un attimo i segni là sopra voglio vedere quanto grande quanto va in basso eccetera in modo che almeno posso decidere ho preso questa staffa qui non è sicuramente la miglior staffa ma è la più sottile in assoluto e a noi in questo caso serve perché l'immagine viene talmente grande che altrimenti va sotto questo o esce quindi che viene talmente grande che va sotto a questo e a noi non va bene ovviamente quindi adesso proviamo a fissarla e vediamo se va bene lì poi in ogni caso bisognerà passare i cavi tipo con una canalina di lato non ho idea comunque l'idea è quella di portare solo un hdmi o due anzi due perché serve uno anche per l'arc e uno boh da tenere extra allora ho fissato la staffa adesso praticamente devo fissare questa a quella lì e poi il proiettore si aggancia quella è la vita che lo deve tenere vabbè mi spieghi perché stai facendo tutto questo da solo comunque qui incredibile ma vero continua guardate manca la parte finale siamo a 18 ore 59 minuti secondo me un'altra oretta dovremmo avercela dovremmo farcela manca il 7% forse anche meno speriamo che vada tutto bene manca solo questa parte finale sta mettendo fuoco da tutta l'altra parte ma va bene siamo arrivati al punto di non ritorno praticamente questa era la mia paura più grande di fare quella parte lì sospesa e siccome non stava riuscendo bene ho provato a appoggiare questo che era uno scarto di un altro tentativo che avevo fatto e praticamente adesso ci sta costruendo sopra l'ho tenuto io in posizione e adesso sembrerebbe andare se questo basta forse ho salvato 18 ore 19 ore di stampa altrimenti rip mi sa che dovrò tipo tagliarlo e provare a ristampare solo questa parte qui però in realtà davvero spero funzioni l'obiettivo è che arrivino a toccarsi quei due punti lì vedete che piano piano sta lasciando quel piccolo ponte non si vede niente ma deve riuscirci oddio ha fatto una linea tra una parte e l'altra oddio non la vedete ma non importa eccola lì sembrerebbe che ce l'abbia fatta guardate che adesso va avanti e indietro su quello e ha chiuso il ponticello tanta roba speriamo venga recentemente altro che momento della verità ragazzi l'ha finito adesso devo riuscire a staccarlo dal piano guarda allora tralasciando la parte sotto che fa schifo perché appunto non gli ho messo i supporti l'unico supporto che avevo fatto è quello ivy hai finito di spingermi guarda tutto il resto comunque quello guardalo su ivy è un po' quanto può essere buffa ma su di me ci sta è più facile che stia su di te che su di me a me non penso entri no dici a me non entrerà mai vediamo no sì è meglio che a me probabilmente perché se state volete della taglia giusta ok credo di esserci riuscito non so perché ma sembra tipo un render cioè io vederlo attraverso questa cosa sembra un render non sembro vero in che senza non lo so non sembra un cosa vero sembra tipo un render se lo risico mentre stiamo guardando Masterchef abbiamo smontato l'albero adesso mettiamo via tutto quanto l'albero si sbaccia il giorno il giorno della Befana però mi era tutto un dolcino oggi per la Befana io non te lo meriti sì perché ho il ciclo quindi me lo meriterei anche di più no comunque adesso scendiamo e smontiamo anche l'altro abbiamo finito di fare l'albero su ora tocca all'alberino giù e riporrò oddio in realtà non mi ricordo come si rimettono a posto bene bene le luci come avevo fatto però proverò a rimetterle a posto in quel modo lì ecco qua rimesse a posto perfettamente prima di andare a dormire però sto mettendo a stampare una cosa nuova questo lo stampo intero così come sta adesso ci metto un po' di blocco di blocchi per i supporti tipo tutta la parte qua al centro secondo me non dovrebbe servire perché tanto è fatto tipo a capocchia e dovrebbe riempire anche se viene un po' male la parte interna non è un grosso problema tanto poi andrà tutto scartavetrato e stuccato eccetera e invece per questi non dovrebbero esserci problema il visore invece non lo blocco lascio che si riempia anche se mi sa che sarà una rottura di balle da togliere e questa parte la lascio rialzata e gli faccio costruire dei supporti sotto potrei girarlo tipo così una roba del genere però dovrei andare a mettere i supporti qua dietro non lo so mi sa che questa è la soluzione migliore per ora qui c'è come ma guardate quanto è piccola è preziosa in questo momento non ti offendere dai ti facciamo sempre complimenti ma quanto è piccola è preziosa in questo momento questo esserino questo piccolo goblin ralicchiato nell'angolo nella cucetina rosa questo ti ha mandato giù dal letto vero povera povera grazie